Salve a tutti, io sono Snake e benvenuti in questa nuova serie. Vi dico subito che ci saranno soltanto 15 episodi di questa serie dove farò vedere la class gem di ogni personaggio. Oggi incominciamo dal Dino Tamer. La class gem del Dino Tamer dice che aumenta la durata della Ultimate, ovvero di questa, che ci permette di cavalcare un dinosauro, e inoltre aumenta anche la velocità dell'attacco della Ultimate. Quindi andiamola a vedere in combattimento. Facciamoci questo dungeon insieme. Poi potete vedere shotto praticamente, ma perché sono in Uber 7, con questo power rank dovrei stare in Uber 9, però in Uber 9 poi diventa troppo complicata la cosa, quindi sono venuto qui in Uber 7 a mostrare questa class gem. Prendiamo tutto e andiamo direttamente dal boss. Non so se ci avete fatto caso, ma se utilizzate la M2, ovvero questa specie di ragnatela, mentre siete con la Ultimate, ve la tirerà già al terzo stadio. Quindi andiamo a uccidere il boss di questo dungeon. Ecco fatto. Questa era la Ultimate del Dino Tamer. Noi ci vediamo nel prossimo video con una nuova class gem. Ciao!